incredibile colpo di scena incredibile colpo di scena dietro fronte incredibile di tutte le squadre partecipanti alla Superlega che potrebbe sciogliersi nelle prossime ore dopo due giorni di... si parla solo di questa cioè si parla in tutto il mondo solamente di questa Superlega e potrebbe sciogliersi perché ora ve lo dico subito, intanto vi saluto bella a tutti ragazzi lasciate tantissimi piace qua sotto se volete altri video di questo genere magari dove parliamo della Roma e della scelta però magari parliamo già di un'ufficialità domani di questo scioglimento della Superlega inaspettato sinceramente però di questo si parla di questo si parla in ultime ore sta uscendo questa notizia che stasera ci dovrebbe essere una conferenza da parte di tutte le squadre partecipanti per questo scioglimento ipotetico della Superlega incredibile perché allora è iniziato tutto dal Chelsea che oggi ci sono state contestazioni incredibili da parte dei tifosi e hanno subito fatto un dead front assurdo ma si stava parlando come vedo adesso anche di Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid anche il Manchester City, anche lo United perché ci sono state contestazioni come vi ho detto assurde da tutte le squadre anche da tifosi italiani dell'Inter, della Juve, del Milan da tutti i tifosi la maggior parte, almeno il 90% di tifosi che fanno parte di questa Superlega tutti i contrari ma come tutti i contrari tutte le altre persone che seguono il calcio anzi forse diciamo quelle partecipanti c'è un 90% delle persone in tutto il mondo del calcio anche le squadre piccole c'è un 95% che vota per non lo so la fine di questa Superlega che non è nemmeno iniziata ma potrebbe addirittura sciogliersi nelle prossime ore è incredibile questa cosa raga è incredibile oggi la Roma fa uscire un comunicato vi ho detto che avrei fatto un video però ne parliamo in questo video ha fatto uscire un comunicato che contano in breve ve lo dico contano per loro per i Fritkin e per la società in generale conta più la volontà dei tifosi che il denaro è stata una scelta incredibile non me la sarei aspettata sinceramente addirittura un comunicato però grandissimi bravi 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 così e sinceramente sono contento anche delle altre squadre delle squadre inglesi delle squadre spagnole delle squadre inglesi e delle squadre italiane le altre che si stanno comunque a parte la Juve ma in realtà tutte le società volevano farla sta cosa però dato che sono arrivate tantissime contestazioni ai tifosi si stanno tutti a caga sotto perché poi magari non si vedono le partite non vanno allo stadio e tutte queste cose così che comunque non fanno bene sicuramente a queste squadre proprio per questo motivo stanno ripensando a tutto le società ovviamente secondo me ora vi dico anche la mia secondo me dovrebbero prendere punti di penalizzazione in campionato punti di penalizzazione in champions in europa league e dovrebbero proprio per l'anno prossimo parlo e dovrebbero essere escluse quest'anno secondo me cosa che secondo me non faranno però secondo me bisogna fare cioè una cosa proprio giustissima da fare ma non la faranno mai perché queste squadre non possono far prima la superlega poi decidono dato che se scioglie rientrassero tranquilli senza niente come se non fosse successo niente invece no invece no da dove la US stava tanto o tutte le altre squadre stavano a dire questa e quest'altro per far sta superlega adesso che magari se scioglie e devono rientrare il campionato italiano se rifai Europa League e Champions devono avere tanti devono essere più severi possibile la liga italiana quella della Premier e quella della liga spagnola compresa l'UEFA che secondo me dall'anno prossimo c'è Donavè se devono rientrare in Champions o in Europa League punti di penalizzazione al 100% al 100% quest'anno devono uscire da tutte le competizioni quindi lo United l'Arsenal il Real Madrid il City e il Chelsea tutte devono avere punti di penalizzazione perché non possono rientrare così dar nulla da dove hanno uscito hanno fatto la superlega dato che non si fa più rientrano tranquillamente come se non fosse successo nulla secondo me è la cosa più sbagliata al mondo infatti spero che prendano provvedimenti seri e appunto si risolva al più presto questa situazione perché non è giusto che rientrano come vogliono quando vogliono per quanto vogliono senza punti di penalizzazione senza niente in cambio cioè hanno sbagliato no non è che hanno sbagliato hanno fatto sta scelta di fare la superlega se ora si scioglie c'è i ripercussioni sul campionato l'Inter punti di penalizzazione il Milan punti di penalizzazione l'Inter punti di penalizzazione come tutte le altre squadre di Premier e di Liga spero succeda sta cosa la vedo difficile perché sono strapoteri comunque nei propri campionati e soprattutto anche in Europa però per me è giusto così cioè è giusto così bisogna e secondo me c'è anche di abbloccare il mercato regà hanno fatto una cosa una pagliacciata assurda che è stata una scelta loro per carità per guadagnare di più adesso che non si fa più gli dà la mazzata che li uccide perché tutti quelli che stanno a fare sta la superrega stanno tutti pieni di debiti tutti pieni di debiti quindi adesso dato che non si fa più niente non si fa più la superrega adesso gli dà la mazzata definitiva non gli fa più il mercato per almeno una o due stagioni gli dà i punti di penalizzazione in campionato e in Champions e in Europa League per l'anno prossimo e quest'anno gli escludi da tutte le coppe quelle che sono rimaste quindi quelle dei Premier probabilmente gli dà le butti tutte fuori non lo dico perché so da Roma e non voglio lo United lo dico proprio perché per giustizia anche perché potrei dirlo potrei pure non dirlo anche perché non è che mi frega niente se la Champions vince Reale o il City o il Chelsea o il PSG però è giusto che vada il PSG ok il PSG non l'ha fatta per un altro motivo perché hanno un contratto con la UEFA non lo poteva fare come vi ho detto nell'altro video però comunque non ha accettato di fare sta Superlega anche se per altri motivi però è giusto così è giusto così le altre squadre hanno sbagliato o comunque volano fare sta Superlega si è sciolta ma non è ancora ufficiale se volete ci faccio un altro video però se sta a parlare di questo se dovesse essere ufficiale lo scioglimento di sta Superlega ci devono essere provvedimenti seri secondo me comunque la Roma fa una scelta fantastica oltre allo scioglimento o non scioglimento della Superlega la Roma ha parlato chiarissimo in breve come vi ho detto ha detto che non parteciperà a questa Superlega e pensa più alla volontà dei tifosi oggi c'è stato anche fuori dall'Olimpio degli striscioni sia di Roma che della Lazio che si sono uniti per andare contro questa Superlega giustamente bravi così anche il Napoli ho sentito che non vuole fare questa Superlega ma c'è stata una cosa assurda da parte di Agnelli che ha detto siete solo 80 anni che dite che la Juve deve fare un altro campionato a parte vincemo sempre dei 50 punti allora siete contenti che se ne andiamo invece no è una grandissima stronzata perché così rovini un campionato intero sia da parte dell'Inter da parte del Milan e dalla Juve cose sbagliatissime che però certe loro se scioglie la cosa cavoli vostri cavoli vostri vi avviate la penalizzazione che secondo me non li avranno mai nei Champions nei rispetti campionati però io la farei al 100% ma ci vuole stare pure la Roma in mezzo è una cosa sbagliata soprattutto se muove che si scioglie tu rientri nei rispetti campionati Champions Europa League senza punti di penalizzazione senza stop al mercato senza squalifica per quest'anno dalle coppie europee cioè ripeschi Granata e ripeschi lo Slavia Praga come in Champions se non vedrà la vittoria al PSG ripeschi quelle che ha buttato fuori il City il Chelsea e il Real Madrid il Real Madrid chi ha buttato fuori il Liverpool quella che ha buttato fuori una delle due cioè perché il Liverpool pure stava in Superliga quindi non si può fare in Champions magari dai la vittoria al PSG senza ombra di dubbio ma in Champions in Europa League dai la semifinale col Granata e la semifinale con lo Slavia Praga e il Villareal io vi saluto vi ringrazio sempre e comunque forza Roma ci vediamo al prossimo video ciao